152 equipaggi al Via per il 17esimo rally 111 minuti, quinto rally del Rubinetto, valido per la prima zona di Coppa Italia e per il campionato svizzero. Sul collaudato percorso tutto intorno al Lago d'Orta, la battaglia è stata bella soprattutto tra il novarese Franco Uzzeni e lo svizzero Jacques Yard, divisi alla fine da soli 4 secondi. Uzzeni, in gara con Fausto Bondesanzo, una lancia d'altà a caiffa integrale, ha allungato fino alla quinta prova speciale ed ha dovuto poi subire la rimonta dello svizzero, mancata per un soffio. Tra i protagonisti attesi anche Carlo Zucchetti, in gara con la Toyota di Piero Longhi. L'industriale novarese è però uscito di strada nel corso della seconda prova speciale, dopo che nella prima aveva fatto registrare il secondo tempo assoluto. Al terzo posto si è piazzato Vedelago, con una lancia delta, che è così balzato al comando della zona. Nel gruppo N, la gara è stata dominata dalla Ford Escort Cosworth dello svizzero Caron. Grazie a tutti.